Musica Ondata di caldo africana confermata nei prossimi giorni in Italia ma anche su buona parte dell'Europa centro-occidentale tuttavia adesso poniamo la nostra attenzione dopo il 5-6 luglio quando la fiammata africana dopo aver interessato in modo diretto la Francia potrebbe invece direggersi verso il nostro centro-nord portando un ulteriore rialzo delle temperature con picchi di oltre 36-38 gradi vedete sulla Val Padana ma anche sulle centrali tirreniche e non scudiamo anche qualche picco prossimo ai 40 gradi sulle aree più interne quindi una situazione di caldo record e un'ondata di caldo che per intensità ma non per durata potrebbe essere paragonabile anche a quella del 2003